Libere senza medici è il titolo di un libro che sembra veramente poco augurante per i nipotini di Ippocrate ma si capisce subito la ragione di questo libro che è fondamentalmente spiegata dal sottotitolo la prevenzione che cura e certo perché l'uomo l'essere umano è sempre stato ossessionato dall'idea del futuro dall'idea della malattia del dolore e allora che cosa ha fatto ci dicono gli antropologi che l'essere umano ha sempre cercato di prevedere il futuro prevedere per prevenire e questa è la base della magia è la base delle predizioni il mondo antico è ricchissimo di questo la medicina contemporanea non fa predizioni ma da più che prescrizioni delle idee degli spunti proprio per migliorare la qualità della vita e usare meglio la medicina stessa anche l'ante e brava la giornalista daniela grancini ha intervistato sette professionisti del mondo della sanità per cercare di capire quali sono le linee guida qual è il fil rouge che permette oggi a tutti noi di vivere meglio con una buona prevenzione oncologica certo odonto stomatologica andrologica ortopedica cardiologica e chi più ne ha più ne metta ne è nato questo libro molto agile molto simpatico anche dal punto di vista grafico perché permette di avere poche idee ma molto chiare su quello che sarà il nostro futuro senza medici impossibile ma impiegando meglio proprio i nipotini di ipocrate grafico per migliorare grafico per migliorare